Musica Potenta, pa ragazzi, qua è Axel, oggi è il mio grado, oggi sono a solo e sono qui a presentarvi il secondo episodio della serie Axel's Road to Glory Abbreviato con Axel's RTG E ragazzi, oh mio dio, cosa abbiamo visto all'inizio di questo video? Ebbene, se abbiamo visto finalmente la mia intro, dato che è anche la mia prima, quindi la mia prima e nuova intro, fatta non da me Ebbene, sì, questo dovete saperlo, infatti quest'intro non l'ho realizzata io, ma bensì un'altra persona Che appunto si chiama XReptor, se non mi sbaglio su YouTube, il link del suo canale lo troverete in descrizione, fa intro Solamente adesso, dato che ha ricevuto abbastanza richieste, le ha iniziato a fare a pagamento Comunque, banda le cianci, ciancio bandiamo Inizio subito col dirvi che se volete comprare i crediti, vi ricordo di passare da FIFA con i stess, sito affidabile e veloze E ragazzi, cosa avete visto dopo l'intro? Avete visto che io ho comprato il primo giocatore appunto di questa serie, se non mi sbaglio, e quale giocatore è? Ragazzi, ho deciso di comprare come primo giocatore della serie Axel's RTG, Reina Che ragazzi è l'ala sinistra peruviana del Salisburgo, che è un bronzo valutato a 61, che costa 700 crediti e ha 91 di velocità Suddiviso in 93 di accelerazione e 90 di agilità e 92 di equilibrio Non c'entra suddiviso, però volevo dirvi qualche statistica E in questo episodio vi mostrerò due partite nella quale sono presenti veramente tanti gol Ecco perché non ve ne ho mostrate tre e nella quale ho fatto una piscitellata mod paurosa Ma adesso vi andrò a spiegare bene tutto Come vedete qua avevo trovato un avversario che aveva una squadra abbastanza schifosa Quella proprio iniziale, se non con qualche giocatore in più E io dico, ma dai, trank, possiamo anche rifarci Ma una cosa strambigua, l'avversario è andato sul 3-1 a fine primo tempo Ma io ho detto, eh no, eh no, eh no, noi non siamo molli, noi possiamo farsela Quindi ho messo la PC mod e come potrete, come potete ben vedere È stata una strage nel secondo tempo Cioè del tipo che ho fatto un recupero dal 3-1 a 5-3 Quindi mi sembrava anche una cosa abbastanza ambigua E poi ragazzi, cosa ho appena visto? Ho appena visto la sfida, che credo che varrà, spero, o meglio non lo so Comunque, la sfida, una delle sfide più importanti del campionato inglese Infatti abbiamo appena visto Liverpool-Manchester City E ragazzi, mamma mia che partita Che poi volevo anche farvi vedere una cosa, o meglio farvi notare una cosa Se voi non l'avete ancora vista Che qual è la differenza tra il campionato italiano e il campionato inglese, secondo me Che se nel campionato inglese una squadra va sull'1 a 0 Dice, madonna, siamo 1 a 0, ma non va bene Eh no, noi dobbiamo portarci minimo sul 2 a 0 Quindi si continua ad attaccare per fare più gol possibili Invece qual è la mentalità degli altri campionati, ma soprattutto di quello italiano 1 a 0 Ma stiamo, scherziamo, noi dobbiamo tenerlo questo 1 a 0 E ci si chiude in difesa e così non ci si fa più gol Quindi, secondo me, questo è un aspetto negativo del nostro campionato Comunque, la prima partita dunque la vinco 5 a 3 E che giocatore vado a prendere? Vado a prendere il centrocampista offensivo del Salisburgo Perché, infatti, ho deciso di farmi il reparto offensivo della mia squadra Di, eh, sì, di farlo il più simile Eh, o meglio, di farlo del Salisburgo di bronzo Una cosa abbastanza ambigua Infatti, come alla sinistra avevo preso Reina Come il COC ho preso Lazard Ebbene, sì, ragazzi, io non so leggere perché non è Lazard Ma, bensì, Lazaro E, ragazzi, è Lazard, pattone, no Lazard è una bestia, è fenomenale Mai me lo sarei aspettato così forte Perché? Perché, ragazzi, è un bronzo È un centrocampista offensivo di bronzo Con 81 di velocità Ma, soprattutto, 4 stelle di abilità E, per me, è un bronzo Un bronzo con 4 stelle è quasi il top Infatti, sarà molto forte Lo utilizzerò assai in questa seconda partita Infatti, come seconda partita Trovo un avversario che aveva una squadra abbastanza scausa E andrò a dilagare E farò anche, non dico uno dei miei golpi belli Ma, se si considera la squadra che stavo utilizzando Farò uno dei miei golpi belli Comunque, andrete a vederlo a brevissimo Comunque, ah, sì, avevo anche un'altra cosa da dire Volevo dirvi Tanto che, dopo che ha fatto il video È spopolata l'app che si chiama AppNana E nel mio gruppo FIFA Ho dovuto bannare tipo 20 persone Perché tutti continuavano a dire Ehi, ragazzi, questo è il mio codice AppNana Ho deciso di fare una cosa Scrivete come commento il vostro codice AppNana Così, se c'è qualcuno che ha bisogno di 2.500... Madonna, che gol! Oh mio Dio, non so se l'avete visto Così, comunque, vi dicevo Se c'è qualcuno che ha bisogno di 2.500 punti Che cosa fa? Usa il vostro codice e se li prende Vi dà 2.500 punti a voi 2.500 all'altro All'altra persona di cui ho utilizzato il codice Qua, rivediamo il gol Mamma mia E se volete vi faccio anche vedere il mio codice Così magari, se volete, potete Volete aiutare anche me E ovviamente non siete costretti a farlo Se non volete non faterlo Mi raccomando E comunque, anche questa partita Finisse, vinco 4-0 Quindi siamo su uno score abbastanza positivo Molto buono Non neanche una sconfitta Né un pareggio Comunque, dopo questa partita Dico Ma bisogna comprare un altro giocatore Solamente non ho trovato un buon ATT bronzo del Salzburg Infatti mi sono dato agli Argenti E ho comprato Alan E ragazzi, non so se lo sapete Alan Nel calcio reale Possiamo così definirlo Ha tipo fatto 28 gol In 28 partite Ha veramente uno score Uno store Uno store, sì Ha veramente un rapporto Partite giocate Gol fenomenale Comunque, detto questo Spero che il video vi sia piaciuto Vi esorto a lasciare un bel mi piace Spero che appunto Questa serie vi piaccia Anche se si parla alla fine Non si parla tanto della serie Ma del più e del meno Del per il diviso E detto questo Vi risaluto E vi dico potente A palacine del prossimo video Bolla